Non è un segreto, è un dono. Abbiamo inventato Facebook prima di Facebook, cioè abbiamo inventato Instagram utilizzando Facebook prima di Facebook. Noi facevamo i post con Belen, arrivava a casa, non lo sapeva neanche, si trovava a casa la pasta a boiello, l'acqua a San Pellegrino, gli occhiali Carriera. Diciamo, perché amore? Stasera è apparecchiato alla camera, non lascia stare, postavi quattro foto su Facebook, andavi dalla società e gli dicevi, guardate che una nuova comunicazione è questa, non esisteva Instagram.